il curioso caso di cammi 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 dove sei? ciao accidenti sei sempre la stessa scusa è che mi diverto molto a vedere le vostre facce cosa succede? non troviamo lady e lulù è molto triste non sappiamo più dove cercare questo è proprio un caso per la detective cammi di qua di qua sembra che sia... è zucchero filato come mai davanti alla casa di lady? questo può voler dire solo una cosa che lady è alla fiera non lusi cotone nuvole è sulla montagna fantasy andiamo cuore a lato voglio andare all'altro lato un passo qua un passo là e il portale fantasy si aprirà aspetta dobbiamo cercare lady sarà meglio non attirare l'attenzione ehi così non vale io non so come si fa è il mondo fantasy puoi fare quello che vuoi che fame profumano proprio come quelli della valle quelli della valle sono i più buoni spero che questi siano uguali li assaggio aspetta manca quello che profuma tanto e dobbiamo tostarlo della valle più buoni? tostarlo? lady hanno trasformato lady in uno zucchero filato e stanno per mangiarsela dobbiamo trovarla subito il dolce sarà buonissimo quando ci metteremo i lamponi lady sei qui lady lady sei lì lady sei un albero lady sei tu oh no dimmi che non sei tu lady ciao come va? aaaaaaah che maleducazione è provabile che lady sia alla fiera non lusi lady è qui quale di queste parti è lady? no per favore per favore non trasformateci in zucchero filato non abbiamo un buon sapore ma di che parlate? sappiamo tutto avete rapito lady e l'avete trasformata in zucchero filato per mangiarvela ma veramente credete che vi mangiamo? beh insomma vi abbiamo sentito dire che quelli della valle sono più buoni e che vi mancava quello che profuma più di tutti? ahahahah parlavamo di lamponi qui non ci sono lamponi buoni come quelli della valle oh accidenti pensavamo che mangiaste i bambini però ancora non sappiamo dove si trova lady calma sappiamo come fare lady lady conei hai visto lady? no lady lady dove sei? riesco a vedere solo delle macchie rosa a casa sua ma certo caramelle scommetto il mio giuccio d'oro che è andata alla fiera adora mangiare qualcosa di dolce sulla ruota panoramica guarda eccola la lo sapevo l'abbiamo trovata lulu FANTASY MAGIC DEAR dai andiamo a prenderla wow il cielo è davvero incredibile che peccato non potermelo godere insieme a lulu si perde sempre cosa ci posso fare? FANTASY 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 imbalance Ribatteranno per vincere il magnifico, grande ciuccio di diamanti! Sì! Fantastico! Bene! Escezionale! Fantasy! Ed ecco che arriva Dreamy, la vincitrice di tutte le edizioni precedenti! Dreamy! Dreamy! Si avvicina insieme alla sua simpatica allenatrice, Dina! Cosa faccio? Il salto della stella! Ancora non mi riesce bene! Dai, vedrai come sarà divertente! Ops, quasi! È stato carino! Dai, provaci un'altra volta! Ti verrà senz'altro meglio! No! Non vincerò il ciuccio di diamanti se tutti si aspettano che lo faccia! Dovresti cercare di divertirti di più! Questa è l'unica cosa che ti importa! È il divertimento! È perché se non ti diverti e non stai bene, non vincerei mai! Cerco solo di aiutarti! Beh, così non lo fai! E se pensi che sia così facile, fallo tu e vinci! Sta per cominciare la prima prova! Gara di salto della nube! Sì! Che bello! Pronti? Partenza? Oh, sembra che ci sia una nuova concorrente! Tutti quanti diamo il benvenuto a Dina! Ciao! Dov'ero? Ah sì! Via! È facilissimo! Vedi, al pubblico piace divertirsi! Incredibile! Dreamy ha appena battuto il record! Vedi, questo sì che è divertente! Qualcuno può aiutarmi! Seconda prova! Lancio di oggetti sorpresa! Sì! Sì! Avviva! Ai! Genna, tocca a te! Ottimo! Fuori! Oh, no! Il tipico lancio di Dreamy! Ha vinto Dina! Vedi? Questo significa divertirsi! I concorrenti sono a pari merito e si giocano tutto nell'ultima prova! Il salto dei funghi! Pronti? Partenza? Via! Cosa succede? Bene, andiamo avanti con la gara! Adesso tocca a Dina! Dai, alzati! È divertente! Hai imbrogliato! Io? E allora tu? Imbroglia le Olimpiadi Fantasy! È inaudito! È una vera vergogna! Adesso organizzeremo una gara, nella quale nessuno possa imbrogliare! Chi raggiunge il trofeo del grande albero senza usare i suoi poteri, vince! Ci sono quasi! Attenzione! No, tu fai attenzione! Mi mancava divertirmi un po' con te! Anche a me! Gareggiare è molto stressante! Ehi, mi è venuta un'idea! Attenti tutti quanti! Pare che stia per provare il salto stella! Tu puoi farcela! Incredibile! È stato il salto più divertente che si sia mai visto! Sì! Bello! Fantasy Magic Team! Bellissima! Che bello! Evviva! Che bello! Prendilo tu! No, tu! Questo sì che è un finale da Olimpiadi Fantasy! Sì, 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 sì! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Mille avventure in un mondo magico scoprirai! Cry Babies Fantasy! Una scommessa impossibile! Oggi faremo insieme un sacco di cose! Vedrai! Come sei carina! Parli ai fiori! Ehi! È molto sensibile! Ti sei fatto male, mio caro fiorellino! Ti sei fatto male, mio caro fiorellino? Cosa succede? Dina mi prende sempre in giro! Ma tu non cambi mai! Tutto il giorno con il tuo fiorellino! Ammettilo! Non puoi vivere senza di lui! Beh, e allora tu, con la tua trombetta e il tuo scudo? Non è lo stesso! La mia trombetta è il più divertente e il mio scudo si illumina! E poi? Io posso vivere benissimo senza di loro! Non come te e il tuo fiore! Oh, sì! Anche io posso vivere senza il mio fiore! Va bene, va bene! Perché allora non fate una prova? Queste sono le regole! Per una settimana, Risi e Didi controlleranno i vostri oggetti per vedere se siete capaci di vivere senza di loro! Chi resiste di più vince la gara! Se vince Rosy, avrà la mia bacchetta per bolle! E io darò il mio prezzo e la Dina se vince lei! Ho una visione! Il vincitore sarà chi non perde e il perdente sarà chi non riuscirà a vincere! Oh, ma è incredibile! Ha fatto una magia! La gara abbia inizio! Primo giorno senza oggetti! Ciao, alberello! Cosa mi racconti? Oh, il mio fiore era più simpatico! Ah, un arbusto! Come va? Che silenzio che c'è in giro! Non sono proprio capace di urlare! Sarebbe tutto molto più divertente se avessi la mia trombetta! Ciao, come ti va? Ti mancano i tuoi oggetti, vero? A me i miei per niente! Di che oggetti stai parlando? Figurati, non mi ricordo né fiori, né corni, né altro! Ah, perfetto! Continuiamo allora, no? Ma certo, Dina! Sono contenta di averti visto! Mi domando cosa starà facendo il mio fiore! La sera li leggevo sempre una favola! Se non sono una ninna nanna con la mia trombetta preferita, non riesco a dormire! Secondo giorno senza oggetti! Ciao! Come vanno le cose? Oggi fa caldo, vero? Ciao! Dina! Cosa ci fai qui? Niente! Passavo da queste parti e ho pensato! Vediamo cosa fanno Risi e Didi! Ah, beh, anche io! A proposito, vi dispiace se do un'occhiata alla mia trombetta? Oh, sì! Visto che ci sono, anche io! Non possiamo andare avanti così! Non mi importa vincere questa gara sciocca! Voglio il mio fiore e i miei corni luminosi! E io ho la mia trombetta e il mio scudo! Ci serve un piano! La nostra missione è entrare nella tana e riprenderci tutte le nostre cose! Sì, ma come possiamo fare? Io mi attraverso da Fattorino che consegna le pizze e porto a Risi e Didi una pizza così buona che non potranno resistere! Intanto tu approfitti della loro distrazione! Apri il cofanetto e prendi i nostri oggetti! È un piano perfetto! Ma è vuoto! Restituitemi il mio fiore! E la pizza! Io ho bisogno dei miei oggetti magici! Non possiamo vivere senza di loro! In fondo ci assomigliamo molto! Sì, non possiamo vivere senza le cose che ci rendono felici! Fantasy Magistria! Sì, non possiamo vivere senza le cose che non potranno resistere! Oh, che bello! Sì, che bello! Sì! Evviva! Meno male che non ha vinto nessuno! È vero! Genna! Un Natale in anticipo! Ciao, ciao! Ehi! Mancano pochi giorni a Natale! Dobbiamo fare presto! Abbiamo ancora un sacco di cose da fare! Deve essere tutto perfetto! Come vanno quei fiori? Eccezionale! E pensi di farcela con due mani? Ma certo! Guarda, ti sorprenderò! Ta-da! Va bene! Meglio che continui con una mano! Però fai presto! Che bello! Come viene bene! Grazie! Ma c'è ancora molto da fare! Non dimenticatevi di scrivere le letterine di Natale! Piano, piano! Adesso siamo occupate! Va bene! Dai, Lea! Mancano le luci! Vieni, Coney! Ti faccio vedere una cosa! Vedi? Sì! È il calendario dell'avvento! Ogni finestrella è un giorno con dentro un regalino magico! Mancano solo due finestrelle! Questo vuol dire... Che mancano solo due giorni a Natale! Quindi è già ora di scrivere le lettere! Vado a dirlo a tutti quanti! Finalmente! L'ultimo! Se hai finito puoi aiutarmi con le palle di Natale! Vuoi le palle di Natale? Prendi questa! Ehi, smetti! La neve non è una decorazione natalizia! Perché comandi tu? Adesso comando io! Lea, metti la neve nelle corone! Ehi, mancano solo due giorni a Natale! Avete già spedito le lettere dei regali? Divertente! Divertente! Regali! Sì! Ho dormito per due giorni! E' già Natale! Tutti a casa mia! Buongiorno! Buongiorno! Oh no! Non ci sono i regali! Con questa confusione mi sono dimenticata di scrivere la lettera! Anche io! E anch'io! Se non avessimo discusso... Avremmo scritto le lettere! E' il Natale peggiore della mia vita! No! Senza regali! Io ho avvisato quando ho inviato la mia! Ma non mi avete ascoltato! Allora tu! Hai un regalo! E dov'è? Qual è? Non si vede! E' speciale! Speciale? Lo voglio anch'io! Forse è molto piccolo! Qui non c'è nessun regalo! Perché sei così contenta se il tuo regalo non c'è? Sì che c'è! Ma voi non lo vedete! Ho chiesto che fossimo qui tutti insieme senza litigare! Questo è il Natale! Oh! Sei la migliore amica di tutto il mondo! Magia! Sì! E' bellissimo! E' bellissimo! Sì! Ma continuiamo a non avere regali! Scusate! Ma dove avete preso questi regali? Cosa? Davvero? Avete aperto nel calendario le ultime due finestrelle che mancavano! Ah! Allora oggi! Non è già Natale! E' domani! E se è domani possiamo ancora scrivere le letterine! Regali! Beh, io chiedo la stessa cosa di Coney! Di stare sempre insieme! Anche io! Anche io! Anche io! Ma sì! Anche io come regalo voglio cedere di rimanere sempre insieme! E se è domani! E se è domani! Anche io! Anche io! Anche io! Cry Babies Magic Tears Mille avventure in un mondo magico Scoprirai Cry Babies Buon pesce d'aprile Buongiorno, Mika! Dammelo! Dai, dammi! Lassalo, Mika, per favore! Ma certo! Oggi è il giorno del pesce d'aprile! Bene, non ho nessuna intenzione di cascarci Quest'anno investigherò a fondo E nessuno mi ingannerà Un mostro! Ciao, Mika! Guarda cos'ho! Oh, che bello! Ti piace? È una scopitumacqua Puoi sentire il profumo? Sì, sì! Che nome strano, però! Buon pesce d'aprile! Oh, no! Non volevo ricevere nessuno scherzo! Cami! Ti voglio offrire un tè rilassante Così starei meglio! Va bene, però Se è un altro scherzo Guarda che non ha intenzione di cascarci Ti piacerà! Ha un ottimo profumo! Ci scambiamo la tazza? Non si sa mai! Ma certo! Basta che ti siedi! Siediti e goditi il tè! Buon pesce d'aprile! Adesso basta! Non posso fidarmi di nessuno! Dovrò andare nel bosco Per stare un po' da sola E in pace! Ma guarda che scherzo È venuto in mente a Lucy e Lua Non siamo al sicuro Neanche qui È impossibile sapere Che scherzi ci aspettano Però conosco qualcuno Che ci può dare qualche inizio Tina, per favore Abbiamo bisogno di sapere Quali scherzi ci stanno per fare Puoi vederlo nella scatola del destino? Destino? Fa vedere? Buon pesce d'aprile! Scusa, scusa Non ho resistito Scusa, scusa Non ho resistito Per favore Dimmi solo quanti scherzi Mi faranno ancora Bene Solo uno Ma non lo vedo bene So solo che ha a che vedere Con dei palloni Palloni? Faremo attenzione Grazie Andiamo, Mica Un pallone Questa volta non ci caschiamo Ti ho beccato Ehi! Mi hai fatto scoppiare la mia bolla gigante Corri, Mica Corri! Dove corri? Ti prendo! Lì, lì! Un altro pallone Il mondo è mio! Mio! Ti ho scoperto Volete giocare? Il mondo può essere vostro Impossibile Siamo in una missione segreta Adesso sì che ci siamo Quelli sono per gli scherzi Siamo a carnevale? Andiamo Perfetto! Scherzo bloccato Sorpresa! Buon compleanno, Wendy! Ma che cosa hai fatto? Voi volevate fare uno scherzo a noi, no? Oh, grazie tante! Non me l'aspettavo! Oh, cosa è successo? Cammy, hai rovinato il compleanno! Io volevo un compleanno con i palloncini Pensavo fossero per uno scherzo Non volevo rovinare la tua festa Ti prometto che non mi dimenticherò mai più Che il tuo compleanno è il giorno del pesce d'aprile Non è niente Sono solo palloncini Magin' Tia! Oh, il ciuccio dorato! Questo è il miglior compleanno della mia vita Vorrei dire il miglior pesce d'aprile della tua vita Cry Babies Cry Babies Magic Tears Mille avventure in un mondo magico scoprirai Cry Babies Fuori a lato Voglio andare all'altro lato Un passo qua Un passo là E il portale fantasy si aprirà! Sì! La previsione di Tina Vedi? Sì, sì! Sto volando! Ah, ah! Oh, no! Adesso sì! Ehi, fantasy! Ah, uffa! Sono venuto da voi per invitarvi a... Al tuo festival della poesia! Che bello! Ci andiamo volando! Ah! Non mi abituerò mai a questo mondo Babby non la pensa come te, eh? Sarai a casa, Tina! Sapevo che saresti passati Avanti! Ai! Vieni, Babby! Batti cinque! Domani io mi esibirò in una poesia cantata! Una poesia canterò! E a tutti piacerò! Ma è obbligatorio andarci? Perché senza cantare io non potrei campare! Vedi? Anche io so fare le rime! No, ti manca un bel po' di pratica! Puoi dirmi se farà bel tempo, per favore? Certo! Ma ho bisogno di concentrazione! 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 Eh? Oh no! Attenzione con l'acqua! Così si bagna tutto! L'acqua è pericolosa! Ah! Ha detto acqua! Oh no! Andiamo! Oh! Ai! Se ti dicessi che il solo non ci sarà, ti direi una bugia, perché invece brillerà! Oh! Quanta fretta! Forse sarà agitata per l'esibizione! Quale vista ha meglio? Rosa o rosa chiaro? Rosa! Rosa chiaro! Il rosa non è originale! No! Il rosa chiaro non è originale! Domani ci sarà il finimondo! Tina nella sua sfera ha visto molta acqua e che si bagnerà tutto! Un diluvio! Rita, andiamo volando! Ci sarà un'alluvione! Non possiamo lasciare la valle così su due piedi! Bisogna prepararsi l'inondazione! Beh! Spero che tu abbia almeno una barca! Appunto! Costruiremo una barca gigante per tutti quanti! Oh! Ah! 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 Oh! Che bella! Oh! Una barca! Incredibile! Wow! Siamo calmi! La barca ci salverà dall'alluvione! E se piove molto faremo surf! Certo! Però oggi era il giorno del mio recital e non vedevo l'ora di cantare le mie poesie! Mi piace la mia casa! Non voglio lasciarla! Cosa vi succede? E perché siete in una vasca da bagno? Sarà il loro modo di fare festa! Le case! La pioggia! L'alluvione! Che alluvione? Nella tua sfera hai visto che c'era molta acqua e che si bagnerà tutto! Ah! Ma no! È Statutini che ha rovesciato il beberon! Io ho detto che il sole sarebbe stato brillante! Davvero? Allora non ci sarà nessuna inondazione? Certo che no! Ah! Sì! Potrò cantare le mie poesie! Magica! Floretta è brava di sicuro! Balla al ritmo di tamburo! Lady è una stella! E brilla come quella! Dina è uno spazio! E suona il clacso! Aiuto! Si sa lì di qua! La tua cosia è speciale! Ma il tuo canto è un po' così così! E alla fine sei riuscita a far piovere! Oh oh! Che festa! FANTASY! 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 E adesso? E ora? Che cosa vi prende? Che siamo un po' annoiate! Non possiamo fare qualche altra cosa! Ci sono! Proviamo a vedere cosa fanno nella valle! Cosa sarà quello? Ci sono dei fogli! E anche delle parole! E' una scatola con le lettere! Guardate! Sta trasportando dei giochi! Fammi vedere! Fammi vedere! Vedo Lady! Ha della pasta colorata! Mmm! Che bello! Sono molto originali! Ehi! Perché non andiamo da loro? Sì! Guarda! Lena! Ti va di insegnarci a fare le cose che fate qui? Che facciamo qui? Sì! A muovere le cose senza soffiare! A fare delle forme bellissime! E a giocare con la scatola delle lettere! Mmm! Mi piacerebbe molto! Ma devo andare perché... che ho lasciato dei dolci nel forno! Tu sai cuocere al forno? Senza usare la magia! Possiamo vedere! Ma certo! Sapete! Io so fare di tutto! State parlando con Lena! L'influencer più famoso della valle! Potete vedere quello che so fare sul mio canale! Le cose di Lena! Potete imparare tutto quello che volete con i miei video! Mi segue molta gente! Ti seguono? Ma io qui non vedo nessuno! Aspettate! Ha detto qualcosa di un canale! Forse bisogna metterlo nell'acqua! Guardate! Nuoto come un anatroccolo! Beh, non credo sia il modo giusto! Un momento! Voi non sapete bene le cose! Credo che funzioni come la scatola delle lettere! Fermati! Non si fa così! Forse è una di quelle cose che si usa per giocare a palla! Oh! Ah! Questo ferro mi sta mordendo! Oh no! Lena è rimasta chiusa dentro quel laggeggio! Esci fuori, Lena! Esci da qui! Aspettate! Lena sa ballare! Oh, guardate! Ciao amici! Benvenuti al canale di Lena! Oggi ci divertiremo con un bel libro e un po' di magico slime! Io voglio quella pasta! E io la scatola con le lettere! Lasciatelo a me! No, a me! Dov'è andata? Deve essere qui dentro! Lena, ci sei? Sì, eccomi! Che cosa fate con il mio portatile? E dove sono i miei video? Li avete cancellati? Ci dispiace molto, Lena! Ma il mio canale! I miei follower! Io sono un influencer! Ho un'idea! Facciamo altri video tutti insieme! Così puoi recuperare il canale! Tu ci devi solo insegnare a essere... In... Fluorescenti! Va bene! Pronti? Azione! Ah! Non così! Prendilo con l'altra mano! Oh! Stavo quasi per colpirti con quel muco gelato! Prendilo! Muco di fuoco! Muco gelato! Muco di fuoco! Muco gelato! Muco di fuoco! Vediamo allora! Proviamo un po'! Si deve fare così! Adesso tocca a voi! Pronti? E... Azione! Oh! Che schifo! Non toccarmi! Il mio dito aleccato ti segue! Non sarò più famosa! Non mi seguirà più nessuno per colpa vostra! Ehi! Ma che fissazione con il farti seguire! Non hai bisogno di milioni di amici sul canale! Tu hai noi! Che cosa vuoi di più? Non ti seguono? Ti seguiamo noi! Venite! Serviamo Lena! Avete ragione! Ho qui accanto a me i migliori amici del mondo! FANTASY MAGIC TIERA! Oh! Wow! Wow! Sì! 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 Yuffie! Scegliamo tutti, Lena! Wendy, aggiusta tutto! Wendy, guarda! Un momento, mi sto occupando della luna! Wendy, mi aiuti ad uscire da qui! Avete visto i crateri della luna? Sembrano occhi, non vi pare? Lady! Lascia fare a me, che di te ce me ne intendo! Allora, se faccio così, poi così... Wendy, aiuto! Che cosa vi succede? Adesso vi libero io! Si parte! È divertente! Mi sembra di essere sulle giostre! Provo ad andare più veloce! Ops! Si è fatto un nodo enorme! Wendy, ci aiuti! C'è da sciogliere un nodo, solo un momento! Avete visto come sorride la luna? Wendy è l'asaluna! È sempre tra le nuvole! Non si è accorta di niente! Non è una buona amica! Pensa solo a se stessa! E non ci ha voluto aiutare! Puoi andare a cercare Missy? Io non so da che parte cominciare! Vuoi che ti aiuti a ripararlo? Sei capace? Non credo sia più difficile di un'equazione di astrofisica, sai? Il volante va qui sopra! Ma quella è una ruota! Già! La ruota va a terra! Ma quante sono le ruote? Ah, quattro! Volete un aiuto? Sì, per favore! Ci penso io! Adesso metto questo al suo posto e poi questo pezzo dall'altra parte! Pensa tutto io, perché tra noi c'è una grande amicizia! Tadà! Nessun problema! Vedete? Potete contare sempre su di me! Questo va così! E questo di qua! E questo? Hai bisogno d'aiuto? No, grazie! Ho quasi fatto! È venuto perfetto! E adesso vado ad aiutare la mia amica Lady! Ho bisogno di te per riparare la macchina! È terribile! Guarda come ha ridotto la stazionata! No! Lascia che lei raccolga! Ma è un disastro! Vuole aiutarci, però se continua così finiremo in mezzo a un recinto o in una ruota! Qualcuno deve dire basta! Io voglio aiutarti! Non serve! Adesso basta! Dobbiamo trovare una soluzione subito! Benissimo! La mia macchina funziona! Che bello! Sì, sì, sì! Grazie, Missy! Avrei dovuto chiederti aiuto per sistemare le cose! Sono un disastro! Beh, per me è più facile! Ma se vuoi, possiamo fare le cose insieme! Non essere triste! Non sei un disastro! La tua specialità sono le stelle! E noi dobbiamo imparare molto da te! È vero! Sì! Agittura! Che bello! Con questi possiamo sistemare le cose insieme! Wow! Voi non preoccupatevi! Adesso ci penso io! No! Il mistero di Halloween Bene! Adesso la zucca! E'ostere la zucca! più a sinistra a destra a sinistra a destra mi fate girare la testa a sinistra o a destra mettetevi d'accordo per favore va bene, non preoccuparti ti aiuto io a destra però solo un pochino che cosa ti prende adesso? un mostro va bene così? sono nella direzione giusta? dove devo colpire? non si capisce una parola mi sembri un elefante con il raffreddore oh oh non mi sento molto bene che cosa è successo? vieni Spot sta per cominciare la festa di Halloween oh c'è una zucca zombie vai piano calmati non ti agitare così ah ho capito dici che è Bonnie? cosa ti è successo? ti si è incastrata? no non vuole uscire meglio che andiamo alla festa e ci facciamo aiutare anche se comunque la zucca è un costume perfetto per Halloween sei sicuro di non voler aspettare fino a domani? aiuto il mostro è tornato non è un mostro Dotti se dai la mano a un mostro lui te la può mordere non pensate di esagerare un pochino dove andate? ma non è un mostro è Bonnie guardate il mostro sta piangendo da quando in qua piangono i mostri? forse è vero che è Bonnie ve lo sto dicendo da un sacco di tempo ha la testa incastrata nella zucca mi dispiace averti chiamato mostro ti aiuto io non ti preoccupare ma non così gli puoi fare male ci sono potremmo mangiarci la zucca la zucca cruda? che schifo dobbiamo provarci tutti insieme conto fino a tre uno due tre facciamolo un'altra volta finalmente liberi oh magica ti as Mille avventure in un mondo magico Scorri-Ride Babies Il gelato multigusto Oh, che caldo fa! Perché non venite qui? Si sta freschi! Noi non abbiamo mai caldo! La nostra numbe ci mantiene al fresco! Mi sta venendo un'idea per aiutarvi con il caldo! Fai presto! Perché le mie idee invece stanno friggendo! Wow! Il mio cupcake è diventato un gelato! La mia macchina no! Non è delizioso! Sì, però puzza un bel po' di piedi! Nella montagna fantasy mangiamo i gelati fatti di oggetti! E ci piacciono molto! Il mio è squisito! Fammelo assaggiare! È dolcissimo! Che buono! Ne dai un po'? Un po' anche a me! Vediamo! Certo che è buono! Sai dei cupcake e non di oggetti! Per la verità io preferisco i gusti di oggetti! Va bene, non vi arrabbiate! Uniamo i miei cupcake con i vostri gelati! Ne ho fatti moltissimi! Credo che se li abbiniamo con questi oggetti avremo dei gelati che piaceranno a tutti! Mi piacciono le tue idee! Cappelle, fragola, capragola! Cioccolato, i biberon, cioccoron! Pallone, vaniglia, palliglia! Mmm! Questo gusto è molto originale! Ecco! Ti rinfresca! Li chiameremo fusione fantasy! Andiamo! Prepariamo i gelati e portiamoli alla montagna! Scusate, vogliamo assaggiare anche noi! Anche io! Anche io! Va bene, prepareremo gelati per tutti! Connie, c'è una sorpresa per te! Ecco, puoi guardare! Evviva! L'ho sistemato in modo da poter consegnare gelati a domicilio! Sì! Gelati a tutta velocità! Mmm! Sì! Sì, sì! Com'è divertente fare i gelati! Gelati! Gelati freschi! Un cono per me, grazie! Proviamo il sapore di tamburo! Beh, sì! Potremmo fare un gelato con... Con questo! Che bella! Gelati! 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 Vado a fare snowboard! Bene! Per ora ho finito! Questo non è il gusto che avevo chiesto! Ve lo puoi cambiare! Un gelato a tre gusti! Quando mi fai il gelato? Oh, caldo! Uff! Attenzione! Ci serve! Cosa? Che succede qui? Beh, non ci sono più cose! Guarda, è rimasto quel frisbee! Fermati! Dammi il frisbee! Torna indietro! Voglio un altro gelato! Fammelo! Stai male? Cosa ti succede, Coney? Abbiamo esagerato chiedendo troppi gelati! Coney ha fatto tanto per tutti! Dobbiamo essere riconoscenti! Prepariamo una sorpresa! Ci aiutate? Mettiamo qui i nostri oggetti preferiti! E... Fusione fantasy! Trasformali in gelati! Wow! Che colori! Sono bellissimi! È fantastico! Fatti colori! Coney, questo è per te! È per ringraziare! Sì! È il gelato più buono e rinfrescante del mondo! Fantasy Magic Gear! E qui ognuno può prendere il suo gelato! Sì! Come è che non mi è venuto in mente prima? Sì! 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 Io continuo a preferire i gelati di aggetti! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Mille avventure in un mondo magico scoprirai! Cry Babies! Crystal è malata! Deve essere da queste parti! Crystal dice sempre che la sua casa è speciale! Beh, a me sembrano tutte uguali! Ciao! Come va? Tu sai dove vive Crystal? Andiamo per una visita, perché non sta bene! Ma certo! Andiamoci insieme! Casa sua è un po' più in alto! È bellissima! È bellissima! Mi piace molto! È molto da Crystal! Ciao! Crystal è a casa! Crystal, come stai? Ti ho portato un regalo! Grazie! Anche se a dire il vero, non mi va molto di nuotare adesso! Fammi vedere come stai! Scotty molto! Con questo panno bagnato sulla fronte la febbre si abbasserà! Il cuore ti sta andando a mille battiti all'ora! Oh, quanti puntini rossi! Sembri un colabrodo! Bisogna farle un'iniezione! Oh, no, no! Mi sento già meglio! Ai! Ehi, ma cosa ci fa una scimmia laggiù? Eh? Una scimmia? Io non vedo nessuna scimmia! Oh, prendimi una noce di cocco da quella palma! Ho tantasette, scimmietta! Mi dai un po' di cocco fresco? Senti di lì! Ma cosa fai? Scotta moltissimo! Sta delirando e ha la tosse! È la febbre delle nevi! Non preoccupatevi! Tra due ore sarà tutto passato! Sta piovendo dentro casa! No! Si sta sciogliendo il tetto! Oh, grazie, scimmietta! Crystal è troppo calda! Bisogna che guarisca o si scioglierà la cava! Ho già provato di tutto! Dobbiamo aspettare che le passi! Non allarmiamoci! Vado a prepararle un po' di tè! Sicuramente le farà molto bene! Avete altre idee? Non so cosa fare! E se neanche io so cosa fare! Proviamo a metterla seduta! E ci soffiamo tutti insieme? Che carina quella scimmietta! Ecco qua! Un tè speciale che porta via tutti i mali! Grazie per il cocco, scimmietta! Il tè è troppo caldo! Bisogna raffreddare la casa subito! Oh! Ho trovato! Lo uso sulla slitta per andare più veloce! Sembra che funzioni! No! Non voglio salire sulla ruota panoramica adesso! Ho la nausea! La casa si scioglie anche con il ventilatore! Che bella idea! Presto! Dobbiamo coprire tutto l'igloo! Oh, come sono stanca! Mi fanno male persino le mie piccole corna! Oh! Siete ancora qui! Grazie! Mi sento meglio! Fammi controllare! Oh! Finalmente la febbre si è abbassata! Ti faccio un massaggio! Vuoi un biscottino? Un racconto stellare! Non voglio dormire più! Grazie! Ehi! Ma tutto questo ghiaccio? Avevi la febbre così alta che la casa si stava sciogliendo! Perché abbiamo rivestito la casa con dei cubi di ghiaccio! Un'idea di Snowy! Oh! Siete geniali! Non solo mi avete curato, ma mi avete anche salvato la casa! Magichia! Wow! Wow! Che bello! Bello! Wow! Wow! Che bello! Wow! 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 Yuhuuu! Ai! E... E... oh oh il tra doci cuccioli ve l'avevo detto che era divertente perché cosa ridete? lua racconta le migliori bargellette di tutta valle e biberon davvero? anch'io voglio ridere anch'io ma io non capisco niente neanche io noi vogliamo capire lua calma per favore è il momento di interrogare la nostra indovina dina vi stavo aspettando come posso aiutarvi? noi vorremmo... non parlare vorremmo essere in grado di capire l'ua voi volete capire l'ua? credo di avere quello che fa per voi ecco qua! il casco delle parole oh che bel nome! e i cristalli sono veramente carini forza proviamolo forza proviamolo forza lua racconta una bargelletta come si dice uno scontro tra due carrelli? scontro è davvero forte oh Lucy lascia che rimanga con noi per il weekend sì per favore dai va bene rimani perché il mare non si asciuga? perché non ha l'accappatoio? è fortissima è fortissima sono straordinaria so fare anche altre cose guardate sono un marziano sono venuto a invadere il vostro pianeta attenzione terrestri sono un robot adesso sono un uomo baffuto lua giuro che sei la cosa più divertente che abbia mai visto visto che sei stata così brava ti regalo un gelato di stella cadente e io ti regalo questo per le bolle ballerine io ti regalo una pioggia di brillantini lua! 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 lua sono venuta a prenderti dai togliti il casco non voglio devo fare lo spettacolo sono una star del cabaret che cosa sei tu? ci piacerebbe rimanesse qualche giorno in più è così divertente ma adesso deve tornare a casa oh Lucy dai non fare così lasciala ancora un po' va bene dai ricordati anche di me un pochino d'accordo? signori e signore vi presento la superstar lua brava! sì! brava! qualsiasi artista ha bisogno di riposarsi ogni tanto cosa ci fai qui? ti aspetterò all'albero stavo solo giocando andiamo giocherai un'altra volta sì! brava! adesso ti vogliono solo lupe di cotone bellissima! dov'è lua? dobbiamo trovarla! ci devi dire come finisce la barzelletta non mi va più di fare queste cose voglio tornare a casa eccola lì! lua! 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 luia! lua! 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 un'altra barzelletta per favore il robot vieni qui lua! 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 oh stai bene? dimmi c'è qualcosa che non va non voglio più dire le barzellette voglio tornare a casa con te oh Lua siamo stati troppo insistenti vero? ma il fatto è che sei così divertente faremo passare tutto il giorno con te lascia che ti tolga il casco dice che tornerà un altro giorno adesso vuole solo andare a dormire Lua si tranquilla ti prometto che la prossima volta ci prenderemo molta cura di Lua è davvero fantastico wow Cry Babies Cry Babies Magic Tears mille avventure in un mondo magico scoprirai Cry Babies andiamo in campeggio è già quasi tutto pronto per la festa del tè quanto manca per i dolcetti? sono nel forno tra qualche minuto sono pronti il mio nuovo servizio del tè piacerà a tutti non è meraviglioso? ecco che arrivano Gigi è già qui andiamo è ora di... presto dobbiamo andare in campeggio in un posto bellissimo con delle more enormi Sì Sì la mia campagna ma io avevo preparato la festa del tè Chuty togli i dolcetti dal forno andiamo in campeggio vedrai come sarà divertente ti piacerà a me non piace la campagna ahi ehi avete visto Chuty? è venuta perfetta la fissiamo bene al terreno ed è fatto ma dove stai andando con tutte quelle cose? ho preso solo l'essenziale ma tutto quello non serve per la campagna la mia bussola sì che è utile che assurdità Lady Gigi noi andiamo a raccogliere le more dai Lady vedrai che sarà bello ah Pan Pan dove sei? Pan Lady dobbiamo andare con loro oh porta come grande oh scommetto che sono velinose io non le raccolgo avvisatemi quando avete finito non puoi dormire adesso dobbiamo rimanere in gruppo è molto importante restare insieme per non perderci sei proprio incredibile Lady Lady non avere paura io ho paura? stavo solo cercando le more certo dobbiamo andare si sta facendo buio conosco la strada e poi ho la mia bussola che fissazione la bussola io so trovare da sola la strada di casa che cos'è? attenta Lady devo sempre fare tutto io wow sei stata fantastica vieni da questa parte no non di là seguimi che fame dare il mio profumo per un delizioso dolcetto di cane ho fame quanto manca quanto manca? Gigi Lady grazie a te e alla tua bussola mi sono salvata sai avevo davvero paura e tu mi hai difeso con il tuo profumo alla fine siamo stati una bella squadra no? Magic Dia wow wow che bello che bello figlia finalmente che bello che meraviglia mancano solo i tuoi dolcetti coni sì ma adesso non so dove è cutie finalmente cutie pan siete formidabili alla fine la campagna non è così male sì grazie mille il mistero del ciuccio incantato oh spot ti ho detto che i cani buoni non abbaiano di notte cosa vedono i miei occhi? sarà la mia immaginazione? è vero non avete idea di quello che mi è successo stanotte ero così spaventata che non ho chiuso occhio ma scusa i ciuccifatti di diamanti non esistono è impossibile e tantomeno quelli che volano magari è stato un sogno vi dico di no l'ho visto uscire dalla finestra non è la verità spot è tutto molto sospetto forza spot confessa dove è messo il ciuccio di diamanti? non è stato spot Dotti dice la verità sono le fantasy e a quanto pare sanno qualcosa certo che lo sappiamo Dotti ha avuto un incontro con il ciuccio di diamanti incantato vedete? ve l'ho detto che era così la leggenda racconta che il ciuccio di diamanti prende vita ogni cento anni e lui vive un fantasma dispettoso sono i cupcakes lo spaventano un ciuccio incantato? sembra terribile vado a preparare molti cupcakes calma non c'è niente da temere qui c'è un bel mistero e il detective Cammy sta per risolverlo se il fantasma riappare noi saremo insieme e non avremo nessuna paura continuo a non credere a una sola parola i fantasmi non esistono e ve lo dimostrerò con questo travestimento ehi non dormire su svegliati guarda ho portato bibiti e dolcetti per proteggerci grazie Connie ma no non sono da mangiare sono per spaventare il fantasma ma sono così deliziosi che non ho più paura dietro di me è vero? aiuto! oh no ho fatto fare i miei dolcetti non la spaventano sono buonissimi ma il fantasma non doveva avere paura dei dolcetti ci hanno creduto e a noi rimangono i dolcetti dovevate vedere la faccia di Dotti quando ha visto il ciuccio adesso è tutto molto chiaro con il trucco dei fantasmi volevano ottenere i dolci di Connie gli meritano uno scherzetto bene vado alla valla a prenderne alza sì per me alla fragola grazie e a me al cioccolato vado e torno adesso eccovi alzato ok fantasmi burloni no 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 battute dai cupcakes questa sì che è una leggenda ci perdonate? era solo uno scherzo prendi vi regalo il mio ciuccio di diamanti grazie tante è stato molto divertente io adoro investigare altri dolcetti? guarda che bella lacrima blu all'interno 새 guarda che video ragazzi li città e due ci gastronom happy yeah cute house i bad ugly i baby Crybabies, Crybabies Magic Tears Mille avventure in un mondo magico scoprirai Crybabies Fantasy Un giorno senza poteri Oggi sorveglio la fontana! Sì! Sì! Ehi! Oh, Jenna, stai attenta! Ecco, Prendy, avete visto che pirouette? Quello che abbiamo visto è che voli come una matta Tutti i giorni la stessa cosa Devi essere più tranquilla Stavo per rimanere senza il mio fiore E io senza la trombetta E io invece mi stresso Pensavo che vi piacesse come volavo Ma vi creo solo problemi Sono proprio una frana Va bene, non volo mai più Così non darò fastidio a nessuno Senza volare l'aria si fermerà E sulla montagna Fantasy nulla si muoverà Prendimi! Oh, Jenna, guardami Lasci Marshmallow nel forno Me li puoi controllare, per favore? Torno prestissimo Va bene Se senti un rumore Scendi volando e spegni il forno D'accordo? Sì, sì! Ho dimenticato la trombetta Me la porti al volo, per favore? No, non volando Puoi portarli a casa mia? Prendi È vernice per i pennelli magici Devo andare al lago Grazie Vuoi assaggiare? Sono gusti nuovi Vuoi? Va bene Cosa dovevo fare? Ah, sì! La trombetta Oh, no! Le vernice di Rosy! I pennelli magici! Stanno usando il gelato! Cosa combino? Oh, i Marshmallow nel forno! È un incubo! La trombetta! Fermaghi! Vieni qui, dammela! Nooo! Nooo! Guarda sull'avetta C'è un duolo che ti aspetta È per me! Non ti rendi conto? Non avevi mai smesso di volare E quando l'hai fatto Tutte le cose si sono fermate I tuoi voli muovono il mondo Devi tornare a volare Ma quando volo Causo problemi E io non voglio disturbare Non volerò Non si tratta di questo Volare fa parte della tua natura Devi solo stare un pochino più attenta E basta Allora Volare! Volare! Torno subito Fidatevi! Sì! Oh, la trombetta Grazie, Gemma! È stato incredibile! Continuerò a volare Fandasi Magic Wow! Sì! Oh! Oh! Wow! Viva Jenna E le sue ali! Dopo un giorno avventuroso Mi serve un bel riposo Alla scoperta di un nuovo mondo Guarda! L'ho quasi preso questa volta Sì, sì Quasi preso Oh! Gigi e il mega lancio! Prendi! Non ridere! Non è colpa mia! Adesso vedi! Chi sarà? Ha un bel costume E ha anche la corona Non toccatela! È una fantasy! Una cosa? Sì! L'ho letto su un fumetto E adesso so tutto sulla montagna fantasy Forse tu sei un po' fantasy Poverina! Dai! Forza! Portiamola a casa mia! Bello! Ops! Però adesso basta Devi accettarlo Non puoi volare Ehi! Stai imparando! Ma quello che so fare molto bene È fermare il tempo Ah ah! Fermare il tempo? Che potere! Questo è un potere! Ah 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 ah! Mmm! È buonissimo! Andiamo! Dobbiamo trovare Feli! Ciao! Fate un po' di spazio Ma dove mi trovo? Nella valle E tu chi sei? Io sono Feli! Bene ma Tu! Da dove vieni? Dalla montagna fantasy? Dal portale? Oh mamma! Deve essere stato il colpo alla testa! Non sta bene per niente! No no! Fermati! È una fantasy! Quindi tu hai poteri? Puoi volare? O scomparire? C'è uno scivolo sulle nuvole? Eccola qua! Oh! Tranquilla! Ah 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 ah! Forza! Andiamo! Oh wow! No aspetta! Feli! Come si fa ad andare sulla montagna? Attraverso il portale! Cerca un cuore alato! Non sempre sarà facile vederlo! Batti le mani tre volte! Porta le mani alla testa! Poi alla vita! Salta in avanti! Salta indietro! Più ti muoverai e prima si aprirà! Poi grida! Un passo qua! Un passo là! E il portale fantasy si aprirà! Oh era vero! Allora mi credetta adesso! Andiamo tutti alla montagna fantasy! Ma come facciamo a trovare il portale? Eh? Arrivo subito! Devo andare a prendere le mie cose! Il portale fantasy si aprirà! Il cuore alato! Che bello! Un passo qua! Un passo là! Il portale fantasy si aprirà! Sì! Che bello! Sì! Gigi aveva ragione! C'è uno scivolo di nuvole! Guardate! Guarda il fiocco! È di diamanti! Benvenuti! Abbiamo ospiti! È visibile! Yuhu! Sa volare! Grazie per avermi aiutato! Fantasy Magic Gear! Montagna fantasy! Sto arrivando! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Mille avventure in un mondo magico scoprirai! Cry Babies! La bolla perfetta! Io adoro le bolle! Sarebbe fantastico giocare con bolle così grandi che quando scoppiano ti piovono addosso! E immagina se fossero così resistenti da salirci come son poni! Oh! E invece queste sono così piccole che non riusciamo neanche a prenderle! Ho trovato la soluzione! Potremmo inventare la bolla perfetta! Sì! Yuhu! La scienza delle bolle è molto complicata ma con questa formula riusciremo ad ottenere quello che vogliamo allora avremo bisogno di acqua sapone e la Superbolle 3000+. Macchina speciale per bolle! Trappinare! Wow! Che invenzione! È eccezionale! E il colore è meraviglioso! Prima prepariamo il liquido per le bolle Voglio aggiungere un po' di vernice così possiamo fare delle bolle colorate Io ci aggiungo un po' di profumo così avranno un buon odore Io ci metto un po' di torta alle fragole così saranno dolcissime! Bleh! Le bolle non si mangiano! No, no! Non ci aggiungete altro! Dobbiamo seguire la ricetta! Ecco fatto! Il liquido è pronto! Adesso soffiamo tutte insieme! Eh? Lady ho detto tutte insieme! Ah, ok! Sei un po' autoritaria! Forza! Allora? Siete pronte? Allora uno due e tre! Soffiate! Soffiate più forti! Fino a rimanere senza piacere! Cuccioli pronti? Queste bolle sono grandi ma si rompono subito non sono perfette So cosa è successo Dobbiamo aggiungere un po' di sapone! Sì! Più sapone! Più sapone! Più sapone! più sapone! Temo sia troppo! Il sapone non è mai troppo! Nessuno si muove dal suo posto qui è molto pericoloso avete aggiunto moltissimo sapone e non sappiamo cosa succederà cosa fate qui? Tornate dove eravate? Ehi guardate! Oh! Cosa dite? Ah! Aiuto! Questa bolla è indistruttibile avete esagerato con il sapone vi avevo detto di seguire la ricetta voi pensate che sia tutto un gioco invece guardate qua ma certo un gioco vi ricordate quando scoppiavamo le bolle piccole? a giocare! a giocare! No! Sì! Sì! Ah! Resistete! Adesso vi tiriamo fuori di qui! Mi gira la testa! Prendi la Lady è troppo grande è lei che prende me Evviva! Finalmente! Siamo tutte libere sono stata un po' scontrosa però alla fine abbiamo fatto una bolla gigantesca sì anche se in effetti abbiamo esagerato un po' Magistia! Wow! 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 Che bella! Guardate che colori! Wow! Wow! Sì! È meravigliosa! È enorme! Questa sì che è la bolla perfetta! Sì! 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 La costellazione segreta parte 1 Ciao! Cosa fai, Wendy? Sto cercando una costellazione a forma di stella blu Se vuoi vengo là posso aiutarti? Certo! Sali, dai! A destra si vede la costellazione dell'arcobaleno Bello! Quanti colori? A sinistra c'è la nebulosa gravitazionale gelato Gravita cosa? Beh, non importa Ehi! Ma vedo la luna Eh? Però non vedo la costellazione della stella blu Lo so neanche io Questa costellazione è l'unica che mi rimane da disegnare È così lontana che non si vede Buonanotte, Missy Vado, ci riprovo domani Cosa succede? Oh, aspetta Fammi una da questa parte Te l'ho già fatta così Ciao Sapete per caso da dove viene questo rumore? Sì, è Missy Ha un'altra delle sue meravigliose idee Missy? Eh? Missy? Stai facendo troppo chiasso E io così non riesco a dormire Buongiorno, Wendy Prendimi il martello per favore Bene Adesso passa me lo forza Oh, oh, oh Fatto! Ho passato tutta la notte a lavorare alla tua nave spaziale Adesso riuscirai ad arrivare alla tua ultima costellazione e potremo organizzare dei viaggi nello spazio per tutti Beh forse c'è ancora bisogno di qualche ritocco Missy non sembra che funzioni tutta alla perfezione ma sei comunque una grande amica Wow Quella non ha certamente bisogno di nessun ritocco è perfetta andiamo a vedere Sì! 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 C'è anche il libretto delle istruzioni Fammi una foto qui Adesso qui La nave spaziale sta per decollare Wendy! No! Che cosa state facendo qui? Non lo so ho toccato qualcosa senza volerlo Calma ragazze non piangete e adesso tutti fuori Sono un genio Missy cos'è quello? Wendy Lena Lady e Lulu sono andate nello spazio Accidenti Ma come faranno a tornare? Tornare? Oh Beh Tornare! Hai ragione! Come faranno a tornare indietro? Che paura è? Meno male che non è decollata Stavamo per finire nello spazio Fuori è quasi buio Il giorno è davvero volato Lena no! Non è notte lo sai? Siamo nello spazio! La costellazione segreta parte 2 Perché piangete? Wendy, Lena, Lady e Lulu sono andate nello spazio su una navicella e non sappiamo come farle tornare Io volevo solo che Wendy vedesse la sua costellazione della stella blu Qual è il manuale delle istruzioni? Dobbiamo leggerlo Probabilmente c'è scritto come far scendere la navicella Ma come le avvisiamo? Se loro sono là e noi qua Sono sicura che uno di questi bottoni ci riporta a casa Sì, ma qual è? Scommetto che Missy lo sa Siamo ora in mezzo dello spazio Ehi! Aia! Ma certo è il crycell Kitty ha un tablet vero? Possiamo chiamarla Sono Lena Wendy e Lady Sono qui sul tablet Fantastico! Ciao Che bello vedervi Tranquille ti faremo scendere Come? La navicella è tua Noi non siamo capaci Ok Con calma La navicella ha dei pulsanti colorati Per atterrare vanno premuti in combinazione È molto importante farlo allo stesso tempo State attenti perché avete solo tre tentativi prima di rimanere senza il potere delle Magic Tears La combinazione è rosso-rosso-blu verde-rosso-verde blu-giallo Va bene ho capito Io premo rosso-rosso e blu Lena preme verde-rosso e verde Ok E Lady preme il blu e il giallo Siete pronte? Pronte per cosa? Via! No, Lulu! Primo tentativo fallito Ah! Chi ha sbagliato? Io no Lulu è colpa tua Non preoccupatevi avete ancora due possibilità Forza! Questa volta non dobbiamo sbagliare Ora! Ma dov'è? Non trovo il bottone giallo! Secondo tentativo fallito Mi sento male mi gira la testa Oh no! Hanno l'ultima opportunità L'ho trovato! Eccolo! Eh? Il pulsante giallo è sul pavimento No! Si è spento il tablet Ho passato la mattinata intera a vedere come piantare le cipolle Ah! Mi senti Missy? Io non riesco a sentirti Dov'è il pulsante? Oh no! Abbiamo perso il contatto Non possiamo più comunicare Cosa dici Lulu? Cosa? Il pavimento! È un enorme bottone giallo! Ok! Pronti? Insieme ce la possiamo fare! Uno Due Tre Non torneranno mai più E' vero! Siete tornati! Sì! È meraviglioso avervi di nuovo qui Ma cos'hai Wendy? Ero vicinissima alla costellazione della stella blu Ma non sono riuscita a vederla Lulù! Che cosa è lì? Ehi! Wendy! Wendy! Guarda le mie foto! Le ha fatte Lulu mentre eravamo là! Non posso crederci! La costellazione della stella blu! D'ora in poi questa costellazione sarà conosciuta come la costellazione di Lulu Magistria! Sì! Che bella! È meraviglioso! Guarda le stelle cadenti! Guarda Lulu! La tua costellazione! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Mille avventure in un mondo magico Scoprirai Cry Babies! Bacchetta Magica Uno, due, tre, quattro, cinque! Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro! Non ti vedo Lisa! Dove sei andata? Da questa parte no! Qua neppure... Eccoti! Vieni Lisa! Ti ho trovato! Devi fermarti! Non vale nascondersi di nuovo! Lisa! Dove sei? Lisa? Che meraviglia! Ma cos'è questo? Mondo fantastico! Non si apre! Ah, Lisa! Guarda cosa c'è! Una bacchetta! È così! Una bacchetta magica! Megliore della mia! Lisa? Cosa ti è successo? Wow! È proprio magica! Andiamo a provarla! Vuoi che dividiamo? Va bene! Metta tu, metta io! Ma ti sei mangiata la mia fetta? No, non è vero! Sei stata tu! Dici una bugia! Rivoglio la mia torta! Non sono una bugiarda! Ho vinto! Impossibile! Quel pezzo non era lì prima! Tu imbrogli! Tu imbroglioni a me! A me! Non gioco più! Bene! Prendila! Dai! Un'altra volta! Veramente carino, Spot! Guarda cos'hai combinato! Guarda! Lo sapevo! Adesso è tutto molto chiaro! Sei stata tu! Per colpa tua non l'ho assaggiato! Mi dispiace! Non pensavo vi arrabbiaste! Sapete che è divertente? Per te, forse! Ma perché? Se perdi, tu sei contenta? Per caso! E se ti sparchi di torta? Io me ne vado! Per favore, tornate indietro! Era solo un gioco! Ho una bacchetta magica! Guardate! Ah, ci sono! Lascia fare a me! Ah! Ah! ragazzi sono qua voglio chiedervi scusa volevo provare la mia bacchetta magica e a noi dispiace molto esserci arrabbiate perché tu sei la nostra amica la torta gigante sì, bacchi enormi, che belli grazie Lala, questo sì che è forte e poi vedrete quello che posso fare con la mia bacchetta ma era qui poco fa e Lisa? qualcuno ha visto Lisa? Lisa! wow, wow Cry Babies Cry Babies Magic Tears mille avventure in un mondo magico scoprirai Cry Babies il super annacchiatore evviva! oh no, ancora non c'è niente non vedo l'ora che arrivi doveva essere già qui ora vedrai, sarà una cosa eccezionale sì eccolo, eccolo finalmente è arrivato che bello sono emozionatissima cosa succede? cosa succede? guarda, Robo 3000+, super annaffiatoio wow è proprio bello, sai? e mi aiuterà ad annaffiare bene l'orto ma è fantastico wow wow oh cosa saranno questi disegni? fa vedere sembrano le spiegazioni ma io non ci capisco proprio niente neanche io sono sicura che Nala e Lea ci possono aiutare andiamo da loro tieni, portalo con te io mi fermo con Lady non toccarlo mi raccomando va bene, va bene ah 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 a a a a a a a a Ho rotto il super annaffiatoio di Katie, oh no! Se lo lascio così non sembra che sia rotto. Guarda che ha fatto! Il mio annaffiatoio, chi è stato? Cone, sei stata tu! Veramente io l'ho solo sfiorato. Non mi sono accorta di niente. Mi dispiace tanto, Katie, davvero, davvero tanto! Bene, allora dovrai... Attenzione! Aiuto! L'annaffiatoio è diventato pazzo! Indietro! Che bello! Ho trovato il gioccio d'oro! Oh, il gioccio d'oro! Qualcuno lo fermi! Oh, è il mio piatto! Mi dispiace molto! Basta, non ne posso più! Sono stata io! Ho rotto io l'annaffiatoio! Spiatoio! Cosa? Scusami, Katie, non volevo, Connie! Non so perché ho mentito! Mi dispiace, scusa! Potevi dìmelo subito! Non mi arrabbiavo! Sì, e poi sei stata coraggiosa! Se l'hai fatto senza volerlo! Ha salvato tutti quanti! E hai fatto un salto incredibile! Allora, non siete arrabbiati! Ma certo che no! È solo un annaffiatoio! O meglio, il 3.000 a più! Ah, che bello! Che meraviglia! Wow! È bellissimo! Guardate là! Wow, guardate! Yuhu! Sai una cosa? Non è rotto! È che ho ordinato il robot fontana e non l'annaffiatoio! La prossima volta e devo stare più attenta, sai? Ehi, ragazze! E io prometto che non toccherò più i pulsanti! Guardate! È l'altro più bello del mondo! È l'altro più bello del mondo! Wow! Wow! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Mille avventure in un mondo magico scoprirai Cry Babies! Giovani talentuose! Benvenuti alla prima edizione di Cry Babies che talento! il premio sarà il grande trofeo! Presto, ragazze! Prego! Ognuno al suo posto! Abra cadabra! Hocus pocus! Spostatevi, ragazze! Tocca a me! Nola, non passare avanti! È il momento di Dotti adesso! Non è un problema, davvero! Per me è uguale! La grande gara comincia! Prima vi presento la nostra prestigiosa giuria! la simpatica Katie! L'implacabile Fancy! E... Lady! Dorme sempre! Avanti la prima concorrente! Eccomi! No! Tocca a Dotti! È lo stesso! Può andare in ala se vuole! Vai pure! Tocca a te se vuoi! Se permetti vado io! No, io! Scusate, ragazze! Mi dispiace! È il mio momento! Ehi, ehi! Non tocca a te! Te l'ho già detto! Attenzione! Perché non avete mai sentito niente di simile! Oh! In vita vostra! Grazie mille, Nala! È vero! Mai sentito niente così prima d'ora! No, aspetta! Ne so una letta! La prossima! Vai tu adesso! Grazie, Dotti! Chissà se torna! Lo spettacolo continua! La prossima concorrente! Lascia, lascia, passo io! Ma, Connie, non sei tu la prossima! tadaaa davvero emozionante pasticcini piccanti in questa edizione abbiamo proprio di tutto sentite che musica la seguente prego magia qui serve un po di magia abracadabra e adesso la palla sparirà abracadabra è tornata lea ho tutto sotto controllo e ora sparisci la palla è sparita finalmente adesso l'ultima chi vuole dolcetti no no per favore fate via io ti riprovo è fantastico non si arrendono non ne posso più adesso basta c'è qualche altra concorrente bene se non c'è nessun altro il premio va a un no i know that we'll be friends forever Come, take my hand through the storm, me weather, wherever you all are. A quanto pare abbiamo una vincitrice! Sì, ma che sorpresa! È un momento molto emozionante! I'm so glad who's here! Brava, brava donk! Rai, brava donk! And be with me, here with me Cry Babies! Crybabies, Magic Tears! Mille avventure in un mondo magico scoprirai! Crybabies! una grande sorpresa adoro la vigilia di natale voi cosa preferite? a me piace l'albero a me piacciono gli addobbi a me piacciono i regali ma qui dentro non c'è niente non c'è l'albero, non ci sono gli addobbi ci hai detto che avevi tutte le cose che ci servivano il fatto è che non ti accontenti mai di niente qui dentro ci sono un sacco di cose ecco, guarda che ci facciamo con un torsolo di mela? ciao ragazze Rudy! vi ho portato l'albero in questa scatola c'è tutto allora, cosa state aspettando? un vaso una pala un annaffiotoglio e tre semi ma che ci faccio con una pala? io voglio l'albero di natale l'albero ce l'hai basta lavorare squadra Nala, aiuta Nala a mettere la terra in quel vaso voi invece, piantate i semi e vedrete non succede proprio niente dov'è l'albero? una di noi ha sbagliato qualcosa secondo me sei stata tu no, tu 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 oh, ma certo l'annaffiotoglio è colpa dell'annaffiotoglio non funziona è rotto oh, ma che ragione oh, ma che ragione l'albero è l'albero di T.R.S. provo adesso vediamo se è rotto ecco i regali avete visto quanto è bello? yeee buon Natale grazie Ruti buon Natale mi piace un sacco questo anno a piattoio me lo posso tenere sul favore? la 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 Cry Babies Cry Babies Magic Tears mille avventure in un mondo magico scoprirai Cry Babies un giorno sulla neve che state facendo? Niente, ci annoiamo Sì, ci annoiamo Ciao, Crystal Ehi, ciao! Vi annoiate? Sì, da morire Volete sentire l'idea migliore del mondo? Sì, che idea? Sono venuto per invitarvi nel mio parco divertimenti È un posto solamente per noi Tu avresti un parco dei divertimenti? Sì, è tutto mio Certo, come no? Invece io ho un palazzo Ah, se non ci credi puoi restare qui, se preferisci Noi ci andiamo Sì, ci andiamo! Viva Crystal! No, aspettate, vengo con voi Oh, accidenti! C'è tantissima neve Qui prima c'era un sentiero Da questa parte, credo Manca ancora tanto È da un secolo che camminiamo È vero Hai detto che eravamo quasi arrivate Tranquilla, deve essere per forza qui Ci sono state tantissime volte Beh, io non vedo proprio niente Mi scappa anche la pipì Lady, ti lamenti sempre Così non ci aiuti molto Non lo so È per forza di qua Ma quel segnale l'abbiamo già visto prima È vero Di qua ci siamo già passate Ma deve essere qui Ha nevicato tanto Ma c'era un sentiero Ora salgo su questa collina Da lassù lo vedrò Ve l'avevo detto Non c'è nessun parco Secondo me, ragazze, Crystal se l'ha sognato Crystal, ci hai fatto venire qui a perdere tempo Noi ce ne andiamo Te lo giuro, era qui Non dico bugie Scusa se non ti ho creduto, Crystal Pensi che riuscirai a perdonarmi Magic Tears Wow Sì È bellissimo Sì Cry Babies Cry Babies Magic Tears Mille avventure in un mondo magico Scoprirai Cry Babies Vola, Lisa, vola! Oh, che bello il tuo pigiamino! Grazie, molto comodo! Chi vuole un palloncino? Ehi, non avevamo deciso di prendere le farfalle oggi? Oggi gonfiamo i palloncini È più divertente Prendine uno, sta bene con il tuo pigiama nuovo Ah, te ne sei accorta! Certo, anche Connie e Nala hanno cambiato pigiamino per la prima volta Quella lassù non ti sembra, Lisa? Cosa? Lisa! Non ti muovere, ti faccio scendere io! Mi raccomando, non aprire la bocca! Altrimenti voli via! Mi hai sentito? Povera Lisa, dobbiamo fare subito qualcosa! Lo so io! Comincia a muovere le braccia! Come se dovessi nuotare nella nostra direzione! Oh no! Continua a salire! Presto, andiamo! E se provassimo a fargli afferrare qualcosa di molto pesante per aiutarla a scendere? Andiamo a casa mia! Questo baule è pesantissimo! Aggrappati forte così riesci a scendere! Che state facendo? Fermi! Se quel baule le cade addosso, la schiaccia! Sì, avete ragione! No! Attente! Fermati, Lisa! No! Ferma! Lisa è volata via! Non tornerà mai più! Dobbiamo fare subito qualcosa! O cadrà a terra! Il retino è per le farfalle! Possiamo usarlo per prenderla! Ah! A presa! Ti voglio tanto bene! Merchie Tria! Oh! Guardate! È bellissimo! Troppo divertente! Noi ricominciamo! Che burloni! Hai saputo cosa è successo? No, non so niente! È orribile! Un rago è scappato dalla gabbia! È davvero enorme! E sta venendo proprio qui! Così mi fai paura! Nasconditi presto! Sta arrivando! Ma dove mi nascondo? C'è solo una cosa che ti può salvare! Entra nella vasca con un ombrello e fai tanti giri su te stessa! Corri! E tu cosa fai? Tu mettiti in salvo! Io penso a distrarlo! Grazie! Sei proprio la vera amica! Nanna, nanna, nanna! Ci sei cascata! Non mi guardare in quel modo, Spot! Era solo uno scherzo! Quello che ha fatto Dotti non è affatto bello! Lei piace fare gli scherzi! Beh, a me non fa ridere! Allora ragazzi, che cosa facciamo? Perché non le facciamo uno scherzetto anche noi? Dotti, non ci prenderei mai! Aspetta, fammi indovinare! È scappato un rago? Dico sul serio, è vero! Sì, come no! E magari sa anche volare! Vuoi venire con me? Ti faccio vedere come ha rotto la gabbia! E poi è scappato via! Dai, andiamo! Guarda! Ci credi o no adesso? Eccolo, guarda! Oh no! Ci mangerà! Che cosa facciamo adesso? Vai nella vasca! Ma quello era uno scherzo! Magari funziona lo stesso! Sbrigati! Vi siete vendicate! Ha 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 ha! Brave! Magic Tears! Magic Tears! Wow! Wow! C'è anche volare! Un grande spettacolo! Ciao Nala! Hai visto? Cane sta distribuendo gli inviti per il suo spettacolo! Ma questo è di Lea? Oh no! Fanno tutte e due lo spettacolo oggi! Io alla stessa ora! Quale andiamo a vedere dei due? Ehi! Oh? Colin! Quanto sei carina oggi! Grazie! Stai bene anche tu! Tieni! Questo è l'invito per il mio spettacolo! Spettacolo! Oh no! Abbiamo avuto la stessa idea! Il mio spettacolo è oggi pomeriggio alle tre! Anche il mio! Oh no! Come facciamo adesso? Non c'è problema! Posso spostare il mio spettacolo sciendo un'altra data! Ma figurati! La cambio io! Ok! Allora la sposti tu! Ah sì? E perché dovrei farlo io e non tu? Perché l'hai proposto tu! Sì! Ma puoi cambiarla anche tu! Fallo tu! No! Tu! 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 Basta! Sai una cosa? Facciamo decidere alle ragazze! Beh! Allora preparati perché il mio spettacolo è bellissimo e vorranno sicuramente venire tutte al mio! Questo è da vedere! Ferma! Vieni qui! Guardatemi! No! Guardate me! Ammetti lo sei invidiosa perché sei benissimo che sono molto più brava di te! Guarda e impara! No! Tu guarda e impara! Troppo facile! Perché non provi ad aggiungerne un'altra? Vediamo come te la cavi tu invece! Prendi questa! Più veloce così mi annoio! Lo so fare anche con gli occhi chiusi! Guarda a me! Con la pilloletta! Più in alto! Wow! È incredibile! Ma come fanno? Insieme siete imbattibili! Sì! Siamo imbattibili! La Genesia! Siamo imbattibili! Siamo fantastiche! Yeah! Siamo per la vita! Sì! Per sempre! Yeah! Sì! Sì! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Mille avventure in un mondo magico scoprirai! Cry Babies! Un bel concerto! Sta per cominciare! Quanto sono carine! È un vero piacere guardarle! Quanto sono cresciute! Ti rendi conto? Vi togliete dai piedi ragazze! Ok! Ce ne andiamo subito! Non fate rumore! Mentre Nala suona! E non rompete niente! Attenta! Tranquilla! Sistemo tutto io! Mi dispiace! Siamo troppo maldestri! Per colpa nostra le piccoline non potranno assistere al concerto! Ho avuto un'idea! Il concerto si farà lo stesso! Il concerto si farà lo stesso! Il concerto si farà lo stesso! Anni roup presidente avognandante questo significa che ci perdonate? e tu invece Nala anche tu ci perdoni? ma certo in fondo è soltanto un organo per me la cosa più importante siete voi le mie vere amiche fantastico a 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 ciuccio d'oro no ma questo è il ciuccio d'oro appartiene ad oggi scendi subito da lì scendi vai provare a me vieni qui tesoro vieni dall'ala sono tornata oh no mi hai dato la cioccolata ma tu mi avevi detto che era importante intendevo esattamente al contrario presto una marmellata è l'unica cosa che la fa calmare non ha funzionato mi hai dato troppa cioccolata scusami tanto non avevo capito proprio niente adesso resterà così per sempre ma no non resterà così per sempre guardate guardate tiggy 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 wow è tutto in ordine buongiorno volete una fetta di torta? nooo crybabies crybabies magic tears mille avventure in un mondo magico scoprirai crybabies quattro ruote per fancy per il mio compleanno ne voglio uno uguale anche io wow avete visto? è un regalo è grandissimo diamo un'occhiata l'ho vista prima io quindi è mia e tocca a me aprirla non vi aggiornate a toccarla la apro io fancy oh ai è la mia macchina nuova oh è l'ultimo modello wow è bellissima ha i cerchioni in gomma di ciuccio oh e gli adesivi aerodinamici sulle fiancate laterali oh beh è praticamente identica alla mia e va veloce direi che è la più veloce di tutte no la mia è la più veloce è una macchina da corsa e può fare qualsiasi cosa che bella già me la immagino veloce come il vento curve pazzesche super impennate praticamente vola ma 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 dov'è il volante ti sei seduta al contrario è vero toglietevi di mezzo metto in moto oh oh almeno la mia funziona che succede non capisco e poi il serbatoio delle lacrime è pieno ahahah lana non ha affatto una cosa bella ridere di fancy è vero dobbiamo aiutarla fancy devi premere il pulsante sul volante yeee fantastico ti chiedo scusa fancy è che anch'io vorrei tanto avere una macchina nuova amazing dance ok ti va di provare la mia macchina così io provo la tua me la fai guidare ma certo siamo amiche e le amiche condividono tutto salta su yeee viva si si yeee vogliamo provare il chino yeee crybabies crybabies magic tears mille avventure in un mondo magico scoprirai crybabies è il mio compleanno? siiii è oggi il compleanno! di chi? mio! ok oggi è il mio giorno speciale riceverò di sicuro tantissimi regali la 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 mia super torta alle fragole mhm mhm clio vola qui di corsa riuscirò a spegnere tutte le candeline sulla torta? speriamo chi sarà la prima a farmi gli auguri di compleanno? sono così emozionata clio che strano qui non si vede nessuno uff ma dov'è clio? ciao ragazze ciao lea oh ragazze ma voi lo sapete che giorno è oggi? martedì? no mercoledì no ti sbagli è martedì mercoledì non ci posso credere adesso vado da Nala lei si ricorda di sicuro che oggi è il mio compleanno mi fai gli auguri per il mio compleanno? te lo ricordi ne ero sicura cosa hai detto? sto ascoltando la musica a più tardi oh che fine avevi fatto? ti sei comportata come se non esistessi fate tutte così è il mio compleanno e non gliene importa niente a nessuno e che faccio adesso? devo passeggiare da sola aaaaaaah non è divertente è il giorno più brutto della mia vita sorpresa! e tanti vi siete ricordati? vieni via che bella sorpresa! yeah! la torta alle fragole yeah! tanti auguri là! oh ma come avete fatto? mi piace tantissimo grazie è bellissimo che carino me lo regalate per il mio compleanno eeeh evviva è il giorno più bello della mia vita crybabies 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 magic tears mille avventure in un mondo magico scoprirai crybabies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 guardate il mio nuovo tablet ci sono tantissimi gattini fammi vedere che carino uuuu che dolce un altro gattino quanti sono? ragazze andiamo a giocare? sì andiamo possiamo ballare o nasconderci tu non vieni a giocare? sì vengo dai Katie lascia quel tablet per favore guarda ce n'è uno nuovo un altro gattino arrivo un altro un altro yeah 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 Miau! 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 Tanna per te! Miau! Oh! Oh! Avete visto? Si comporta come se non esistessimo! Oh! Non penso proprio! Vedrai che... Commetto che se ce ne andassimo via tutte non se ne accorgerà bene meno! Ne sei convinta? Ora vedrai! Miau! Miau! Le mie amiche se ne sono andate! Mi mancano tanto! Magic Diaz! Ciao, Katie! Ci manchi tantissimo! E ti chiediamo di tornare subito a giocare con noi! Ehi! 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 Sono ammalata! Uno, due, tre! Invece tocca a me! Ehi! Attenta! Ciao, Katie! Ciao, Katie! Che ti è successo? Non stai bene? Sì, sono male! Sì, sono male! Sono tanto male! No, quelli bianchi! Non vanno bene! Mi fanno fare le puzzette! Qualcos'altro! Scusa, ma non ti senti male? Scusa! Ma non ti sentivi male? Guarda! Oh, no! E dato che sto male, posso chiedere quello che voglio! Oh, no! Non mi sento per niente bene! Oh! Oh, neanche io! Connie sta male! E le portano tutto quello che vuole! Oh, ora stiamo male anche noi! Oh! Dov'è il gelato? Voglio il gelato! Bolle! Voglio più bolle! Voglio i palloncini viola! Io ho tanta fami! Voglio un delfino o una scimietta? Ma dove è finita? Oh, poverine! Ragazze, forse abbiamo veramente esagerato! Ora stanno male veramente! Scusa tanto, Cutie! Dobbiamo prenderci cura di loro! Sì! Magic Dears! Wow! Chiedeteci quello che volete! Dov'è Lady? Buongiorno, ragazze! Buongiorno! Buongiorno! Stanotte ho dormito proprio con me! Ma che ti prendi, Lou? Che cosa? Sta dicendo che Lady è scomparsa! E che non è in camera sua! Ah, avrà ricominciato a fare la sonnambula! Dobbiamo trovarla! Avete sentito? Un leone! È un leone! Secondo me si è mandato Lady! Non è un leone! È Lady! È sull'albero! Dai! Vedi Lady! E voi che ci fate là sotto? No! Che ci fai tu là sopra? Oh no! Fatemi scendere! Non ha tempo per giocare! Adesso ho da fare! Lo so! Lo so! Scutiamo l'albero! Non sono una mela! Potremmo abbatterlo! E come? Lo prendiamo a morti! Sìììì! non ora ti ho detto non scenderà mai non preoccuparti Nala mi è venuta un'idea l'ho visto fare in un circo salta Lady sì l'ho visto anch'io è infallibile devi passare nel cerchio e atterrare qui salta no ma state scherzando sono troppo piccola non ce la faccio dovrò vivere qui per tutta la vita siete le migliori del mondo Sì ma certo ecco cosa stavi cercando di dirmi scusa se non ti sono stata a sentire direte Yuhuuu! Grazie! Grazie!